Attenzione perché in questo podcast si parla di sesso senza peli sulla lingua, per ora. Quindi se non siete maggiorenni non potete ascoltare questo podcast. No, non è vero, potete farlo ovviamente perché altrimenti perderebbe il 90% della sua utilità. Poi io comunque sono un podcast, mica un poliziotto, quindi fate un po' quello che vi pare. Comunque sì, io sono Valentina. E io sono Dario. Oggi parleremo di educazione sessuale. È una cosa che sicuramente tutti avete più o meno fatto una volta nella vostra vita. Eccone uno, eccone un altro. Io l'ho fatta in terza superiore. Si chiamava Peer Education. Mi ha spaventato a morte. Era praticamente terrorismo. E io l'ho fatta in terza media con un sessuologo che ci ha spiegato come non rimanere incinta e come non prendere le innumerevoli malattie sessualmente trasmissibili. Quindi terrorismo psicologico. Ok, iniziamo dicendo questa cosa. L'educazione sessuale non è come non rimanere incinta. Come non rimanere incinta, come non prendere la malattia. È una piccola parte dell'educazione sessuale. Secondo l'OMS, che cos'è l'educazione sessuale? Secondo l'OMS, appunto, tra i diritti umani c'è anche l'educazione alla sessualità. E viene intesa, guarda caso, non soltanto come riproduzione e atto sessuale in sé, ma come avvicinarsi alla propria identità, al proprio piacere personale, all'intimità con se stesso e con l'altro e a tutto quell'aspetto relazionale che nell'educazione sessuale italiana viene ampiamente trascurato. Quindi, ad esempio, ci sta dicendo quello che ci piace, quello che non ci piace, come capirlo, come essere consapevoli di quanto è importante per noi il sesso nella nostra vita, del fatto che può essere normale che io non provi interesse per il sesso, si chiama sessualità, 1% della popolazione italiana è assessuale, vengono tolti da tutte le statistiche, sempre poveracci le sessuali, e comunque sia è normale, cioè succede, ma chi è che ce lo deve dire queste cose? In altri paesi è obbligatorio. In Italia? No, in Italia, spoiler, non è obbligatoria l'educazione sessuale, o meglio, non è inserita tra le materie curricolari del percorso scolastico dei nostri alunni. Infatti ci sono altri paesi europei, come la Svezia e l'Olanda, che fanno partire l'educazione sessuale addirittura dalla scuola dell'infanzia. Per cui un insegnamento continuativo, olistico e contestualizzato in base all'età, che viene portato avanti per tutti i cicli scolastici successivi. Noi ci basiamo sulle indicazioni del MIUR, quindi il Ministero dell'Istruzione, ma poi nella pratica la decisione spetta alle singole scuole, che decidono se investire soldi, tempo e progetti in quella che è l'educazione sessuale, ma possono anche non farlo, perché ahimè non abbiamo una legge che definisca questa disciplina. Ci sono state fatte, dagli anni 70 ad ora, 16 progetti di legge e 300 atti parlamentari, ma non siamo arrivati a una conclusione. Io lo vedo già che c'è qualcuno tra voi che si dice Sì, ma io vado educazione sessuale a Cagliari nel 74 con Rocco Siffredi e mi ha insegnato come mettere preservativi con la bocca. Va bene, ok, non è la norma però, mi dispiace. Comunque sia, allora, le persone iniziano a fare sesso mediamente intorno ai 15 anni, poi non c'è un'età giusta per fare sesso. Ok, di questo ne parleremo sicuramente un'altra volta, di prima volta, diciamo così. Comunque sia, iniziano mediamente e statisticamente intorno ai 14-15 anni. L'educazione sessuale in Italia viene fatta normalmente a 16 anni, ok? Già questa cosa di base la rende poco utile, diciamo così. Ma in più, essendo fatta per così poco tempo, ci lascia un sacco di domande, perché durante l'adolescenza siamo sempre un po' confusi su tutti gli argomenti. Ad esempio, ci piacciono artisti che non ascolteremo mai più nella nostra vita, e va bene. Ci piacciono cibi che non mangeremmo mai più nella nostra vita. E per il sesso come facciamo a sapere? Dove troviamo risposta alle nostre milioni di domande? Generalmente su internet, o più nello specifico, nella pornografia. E qual è il problema? Non tanto che non ci insegni nulla, perché di fatto qualcosa ci insegna, ma la pornografia è pensata per un pubblico di adulti, e quindi persone con una maturità sia sessuale che relazionale, diversa da quella di un adolescente. E l'adolescente potrebbe non essere in grado di distinguere la realtà dalla finzione, e crearsi delle aspettative molto diverse da quelle che poi vedrà realizzate nella vita di tutti i giorni. Quindi dei corpi che non saranno quelli perfetti visti nella pornografia, delle pratiche sessuali o delle attività, che non saranno magari quelle che piacciono al partner o che piacciono all'adolescente stesso. Se dovessero togliere tutto il porno da internet, rimarrebbe un solo sito con scritto Ridateci porno. Volevo ricordare questa cosa perché è importante. Ovviamente internet è fatto per i porno. Ma comunque il problema non è di per sé dei porno, ovviamente, nel senso che i porno non sono fatti per insegnare, non sono fatti per educare. Il problema è che sono l'unica cosa che un po' si avvicina all'argomento, diciamo così. Ma noi con chi è che dovremmo parlarne quindi di queste cose, se non con i porno? Anche perché vi ricordo che i siti internet non rispondono, cioè se gli fate le domande, punta a capo. A chi lo chiediamo? Questa è una bellissima domanda. La risposta è che non c'è una figura professionale in Italia che si occupa di educazione sessuale in toto. Potremmo pensare a uno psicologo, a un educatore, a un sessuologo, agli insegnanti, perché no? Ma di fatto nessuno, non essendoci l'obbligo di questa disciplina scolastica, si occupa di risolvere i dubbi degli adolescenti, dei giovani adulti, ma anche dei bambini, perché no? E quindi si fa molta confusione e diciamo che rimangono soltanto le famiglie con cui parlarne. Famiglie in cui però il sesso spesso è un tabù, non se ne parla, se ne parla di fretta, con vergogna e viene fatto passare come una cosa sporca, una cosa pericolosa, è una cosa di cui è meglio non parlare. Ho la soluzione. Non parlarne è la soluzione. Se io non parlo di sesso, la gente non lo fa, è geniale. E ci sono paesi nel mondo che applicano questo tuo concetto all'educazione sessuale. Per esempio negli Stati Uniti la politica è quella dell'how to say no. Cioè come dire di no e come non fare sesso. Quindi l'astinenza è la soluzione. Non rimarrò incinta, non trasmetterò e non avrò delle malattie sessualmente trasmissibili e avrò risolto tutti i problemi. In realtà no, perché non parlandone non si ridurrà il numero di persone che faranno sesso. Anzi, lo faranno comunque, lo faranno magari nel modo meno sano, meno consapevole, perché c'è tutto questo aspetto della consapevolezza di quello che si sta facendo, che viene sminuito e non viene considerato in quella che è l'educazione sessuale fatta in questo modo. Anche perché non parlarne lo rende quasi appunto una cosa che uno deve sapere. Cioè si sente che quella che deve sapere qual è il buco giusto, ok, per dirla in parole povere, si sente che uno deve sapere cosa fare, cosa non fare, quali sono le pratiche sicure e non sicure, è così, in automatico. E non è assolutamente ovvio questa cosa, tra l'altro. In più questo non sapere, non conoscere, può causare un sacco di ansie, aumentate dal fatto che viene fatto del terrorismo, cioè ti dicono che forse il preservativo non funziona al 100%. Questa cosa tra l'altro è vera, però deve essere spiegata molto bene, e lo faremo sicuramente in una puntata. Il preservativo non protegge dalle malattie, da tutte le malattie, perché è quello che io ho capito dall'educazione sessuale che ho fatto alle superiori, che alla fine le malattie sono talmente tanto potenti che anche se usi quattro preservativi e ti metti la tuta anti-covid, comunque sia potresti, forse comunque non sei sicuro al 100%. Non è il modo corretto di insegnare. Viene insegnato, cioè ci educano la sessualità spaventandoci, che è una cosa che di certo non ha buoni risultati. Ok, per l'Italia, quindi abbiamo detto che non esiste una campagna di educazione sessuale per vari motivi politici, pensate a tutti i motivi che potete, e sicuramente un'altra cosa importante, un grande ostruzionismo negli anni è stato fatto dalla Chiesa. Sì, infatti ci sono dichiarazioni, per esempio molto recenti nel 2011 di Papa Benedetto XVI, che ha dichiarato, cito le sue parole, che l'educazione sessuale è una minaccia alla libertà religiosa delle famiglie, quindi uno schieramento molto netto, che sicuramente ha influenzato quelle che possono essere non soltanto le decisioni politiche, ma anche quelle familiari. Per famiglie particolarmente religiose è stato un tabù ulteriore. Fortunatamente il 29 gennaio del 2019 Papa Francesco, mentre era in aereo, un viaggio di ritorno da Panama, ha parlato dell'educazione sessuale dicendo che il sesso non è un mostro da cui fuggire, ma un dono di Dio, e che è necessario parlarne, fare un'educazione sessuale oggettiva, e che possa aiutare gli adolescenti, gli adulti, e chiunque si approccia alla sessualità. Quindi noi prendiamo a piene mani dalle parole di Papa Francesco e parliamo di sesso. Questo è quello che vogliamo fare. Un po' di take-home message di questa prima puntata introduttiva. L'educazione sessuale serve? Sì. L'educazione sessuale è solo come non ammalarsi, come non rimanere incinta? No, quella è una piccola parte, e tra l'altro è una parte che per quello che è stato fatto funziona. Io capisco che dal punto di vista della medicina pubblica, dell'igiene e sanità pubblica, lo scopo sia ridurre i costi correlati alle malattie, alle interruzioni di gravidanza, tutti i rischi collegati della salute, e va bene. Ma non è solo quello. E farlo per così poco tempo può avere sostanzialmente l'effetto opposto. Tra l'altro sappiamo che funziona perché c'è un report dell'OMS che ha studiato il caso della Finlandia. In Finlandia si fa l'educazione sessuale da tantissimi anni. Si fa da talmente tanti anni, si fa talmente tanto bene, che il numero di gravidanze indesiderate e di malattie sessualmente trasmissibili tra i giovani negli anni 90 era molto basso. Così cosa decide lo Stato finlandese? Riduciamo i finanziamenti all'educazione sessuale. Tra il 98 e il 2006 riducono proprio i progetti. Il numero di gravidanze indesiderate e di malattie sessualmente trasmissibili aumenta e quindi nel 2006 si vedono costretti a reinserire, a refinanziare i progetti di educazione sessuale. Quindi funziona. Funziona e lo scopo, il nostro scopo non è quello di demonizzare l'educazione sessuale per come viene fatta, è quella di ampliare un po' gli orizzonti e renderla un po' più omnicomprensiva. Dalle linee guida dell'OMS c'è questa bella parola omnicomprensiva, per cui per arrivare a una vita sessuale vissuta in modo più consapevole, più sano e meno, non so, meno condizionato da quello che è il terrorismo psicologico che è stato fatto a tantissimi ragazzi, noi compresi, nei pochi incontri di educazione sessuale. Sì, sì, perché come avete capito tutta questa cosa nasce perché io me lo sono legato al dito. Cioè, questa è l'idea. Io odio come è stata fatta, mi ha traumatizzato per dieci anni della mia vita e credo altre persone abbiano avuto la stessa cosa, adesso non lo so. Alla fine ne sono uscito da solo, cioè per informazione personale ho capito esattamente come funzionava questa cosa e quindi vorrei evitare l'errore sostanzialmente. Esatto, favorire anche agli altri quello che è stato il tuo processo in dieci anni, magari possiamo ridurre i tempi per qualcun altro. Quindi per questa puntata è tutto, mi raccomando, non fate sesso con gli animali perché potrebbe essere pericoloso, è una delle cose che ho capito guardando i video su internet. Noi ci sentiamo alla prossima puntata. Ah, volevo dire che in realtà, non so se l'avete capito, ma io non sono Valentina. E io non sono Dario. Ciao! 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 Ciao!